E' iniziato con un minuto di silenzio in segno di vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria il primo consiglio direttivo del 2023 di ALIS, una ulteriore occasione per ragionare sulle esigenze del settore annunciare la costituzione di una nuova commissione tecnica di ALIS denominata Sicurezza e Cyber Security e soprattutto fare il punto sull'attività programmatica dell'associazione che continua a crescere forte di prestigiosi nuovi ingressi, tra cui nove soci consiglieri e quattro nuovi importanti enti di formazione. Ma è sull'imminente appuntamento di Letexpo in programma a Verona dall'8 all'11 marzo che è stata incentrata la conferenza stampa di fine lavori. Tante le novità per questa seconda edizione ad arricchire il programma oltre ai consueti appuntamenti, incontri istituzionali, conferenze stampa, workshop, incontri B2B tra le imprese del settore, quest'anno ci saranno anche degli importanti momenti culturali a partire dalla mostra itinerante sui crimini nazifascisti promossa dallo Stato Maggiore della Difesa con il patronato della Presidenza della Repubblica, inaugurata ieri a Napoli al Museo Panna la presenza del Presidente di Alice Guido Grimaldi e del Sindaco di Napoli, Ghetano Manfredi ma anche un'esposizione della collezione di Ato d'Epoca del Museo Nicolis di Villa Franca di Verona e poi un'esposizione delle opere dell'artista napoletano Lello Esposito. Noi oggi abbiamo un importante momento col Presidente di Verona Fiera, Bricolo col quale andremo a inaugurare la nostra importante Let Expo 2023 dove ci saranno presenze importanti. L'anno scorso ricordo i numeri furono molto veramente importanti con circa 200 espositori, con 4 padiglioni e con una bellissima parte della fiera un padiglione dedicato ad Alice per il Sociale. Quest'anno i numeri sono ancora più ambiziosi e direi molto confortevoli perché raggiungeremo oltre 300 espositori, 5 padiglioni, oltre 60.000 metri quadrati e dalle 50.000 presenze dell'anno scorso ci attendiamo oltre 100.000 presenze. Sarà una fiera che inizierà benissimo con la festa della Donna Lotto e si concluderà ancora meglio con quello che l'11 è il giorno di Maria quindi insomma gli auspici sono straordinari. Grazie a tutti.